3, 2, 1 Sono Erika, ho 27 anni, sono una persona creativa, solare, tranquilla e molto determinata. Snoop è il mio cagnolino, lo considero il mio compagno di ogni giorno e il mio migliore amico con cui trascorrere tutte le avventure e la mia vita quotidiana. Adesso che molto spesso lavoro in smart working, Snoop è la mia occasione per staccare un attimo, per distrarmi dal lavoro, dallo stress e anche per concedermi una pausa nella natura quando lo porto a fare una passeggiata. Per me la natura è tutto, dalle cime incontaminate, dalle montagne, alle passeggiate tranquille in compagnia del mio cane. Grazie